Laure magistrali, accendi il tuo talento. Sono Marco, sono iscritto al corso di laurea magistrale di scienze ambientali. Ho scelto l'insubria perché, parlando per esperienza personale, mi ha permesso di coniugare l'esperienza lavorativa con quella formativa, senza inficiare sull'efficacia di quest'ultima, grazie alla qualità dei corsi erogati, del corpo docenti e anche all'attività pratica e di campo. Ho scelto di intraprendere il percorso di rischio geologico, nello specifico di studiare terremoti, tematica molto importante e che mi sta arricchendo da un punto di vista personale, oltre che formativo, e che trova in uno scenario di grande vulnerabilità come quello italiano, ma non solo, un'immediata applicazione.